Ancora un abbandono di Eternit a San Cipriano, lungo le sponde del lago della frazione cavrigliese. È il secondo episodio analogo in circa sei mesi, a poche decine di metri peraltro, dalle case più vicine alla diga. La scoperta è avvenuta nella giornata di ieri. Assieme a molti inerti derivati da lavori edili, nella discarica abusiva sono stati appunto rinvenuti oltre 20 pannelli di Eternit ondulato, composto principalmente da mianto, in un terreno di proprietà dell'amministrazione comunale, che quindi adesso deve provvedere a spese proprie allo smaltimento. Per il momento i pannelli sono stati coperti e la presenza dell'amianto è segnalata in modo evidente. Sulla vicenda, poiché appunto non è neppure un caso isolato, ma è il secondo che accade in tempo relativamente breve, è intervenuto anche il sindaco Leonardo degli Innocenti Ossanni. Invito nuovamente tutta la cittadinanza, scrive il primo cittadino, alla massima collaborazione per scoprire responsabili ed evitare episodi del genere in futuro, in quanto, oltre i danni che possono essere recati per l'abbandono di amianto nell'ambiente e per la salute pubblica, i costi dello smaltimento gravano sull'intera comunità.